Gli uffici diocesani liguri dell'ecumenismo hanno iniziato a camminare insieme. È la grande novità che emerge tra le righe degli appuntamenti in programma per la settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani 2022. Un movimento di condivisione che cresce, grazie all'entusiasmo dei delegati, al desiderio di conoscere meglio i territori e i fratelli cristiani divisi che li vivono. Tra i momenti forti in diocesi, il primo domani, sabato 15 gennaio, con la giornata di studio sull'ortodossia. Storia, fede e spiritualità saranno trattati alle 10 nella Chiesa Evangelico Battista di Corso Garibaldi a Chiavari. Alle 16.30, nella parrocchia ortodossa rumena, nei locali del santuario di Sant'Antonio, sempre a Chiavari, ci sarà la possibilità di visitare la cappella e pregare il Vespro. Lunedì 17 si celebra la giornata del dialogo cristiano-ebraico e Telepace proporrà una diretta tv serale con diversi ospiti, tra cui giovani dell'amicizia ebraico-cristiana e contributi d'eccezione come l'intervista alla storica Anna Foa. Infine, la serata più attesa della settimana, venerdì 21, con la celebrazione ecumenica nella Chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. La predicazione sarà guidata dalla pastora battista Lidia Maggi. Sarà l'occasione per pregare affinché i cristiani, pur non dimenticando le divisioni, camminino sempre più uniti nella quotidianità. Se io apro la mia Chiesa per pregare insieme al Dio unico che adoriamo i cristiani, poi non posso per il resto dell'anno chiudere la mia Chiesa, la mia casa, la mia vita, le mie esperienze agli altri fratelli e alle altre sorelle. Non si apre soltanto un giorno durante l'anno la casa, il cuore alla preghiera insieme, ma ogni giorno, ogni istante, perché durante tutto l'anno si viva con questo spirito la nostra fede e la nostra spiritualità.